Non sei freddo della violenza, è buono per te, c'è tre cose che rendono la nostra esistenza, art, f***ing, e uccidere, quindi art, f***ing, uccidere. John Battaglia è un padre e un marito terribile, che si è abbassato a così tanto solo ed esclusivamente per mettere in atto una vendetta e questa storia spiega come, dopo che suo marito è diventato così abusante, Mary Jane prende la decisione di divorziare da lui per la propria sicurezza e anche quella delle sue figlie. E proprio nel momento in cui divorzia, Mary scopre la sua terribile storia, quella che John le ha nascosto per più di un decennio. Nei mesi successivi fa del suo meglio per tenerlo a debita distanza, ma con due figlie avute da quel terribile matrimonio, pare quasi impossibile liberarsi di lui. Purtroppo John farebbe qualsiasi cosa per rendere la sua vita un vero e proprio inferno, anche se ciò significasse commettere il peggior crimine possibile. Ciao a tutti amici e benvenuti su Giada Crime. Se vi piacciono le storie di True Crime, beh, siete nel posto giusto, quindi vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Oggi vi parlo dello straziante caso di John Battaglia, ma non prima di avervi però parlato di NordVPN. Per tutti i casi che vi porto sul canale faccio moltissime ricerche che spesso però mi portano a navigare su tantissimi siti indesiderati. Quindi per evitare problemi mi affido a NordVPN che mi aiuta tra le varie cose a proteggere il mio computer da potenziali virus. E visto che tra YouTube, Instagram e TikTok pubblico tantissimi casi durante la settimana, ogni giorno navigo su tantissimi siti online. Grazie a Nord posso stare tranquilla perché tra le varie cose aiuto a proteggere la mia connessione e tutti, tutti i mie dati restano al sicuro. Anche connettendomi ad una rete wifi pubblica, ma non solo. Portandovi infatti tantissimi casi internazionali, spesso collegandomi dall'Italia, alcuni degli articoli che mi servono purtroppo non mi sono accessibili. Quindi grazie a NordVPN mi basta collegarmi al server del paese che mi interessa, cioè in cui questi contenuti sono disponibili e così posso portarvi un video sempre completo di informazioni. Tra l'altro amici è il compleanno di Nord e per questa occasione speciale c'è un'offerta da non perdere. Infatti se acquistate il piano biennale di NordVPN avrete 4 mesi extra gratuiti, disponibili però solo tramite il mio link e inoltre avrete anche un coupon valido per 3 mesi di abbonamento gratis per chi volete voi. Ad esempio se volete fare un regalo ad un amico oppure un familiare. E attenzione perché questo abbonamento avrà praticamente la stessa offerta che avete attivato voi. Ad esempio se attivate il piano plus che contiene NordVPN più NordPass che è il gestore di password con cui potete gestire tutte le vostre password in modo sicuro, anche questa persona a cui avete regalato il piano di 3 mesi potrà usufruire della stessa identica offerta. Se vi interessa nordvpn.com slash jada crime che vi serve proprio per avere accesso all'offerta esclusiva. Ed ora iniziamo con la storia di oggi. Oggi amici vi racconto lo scioccante caso di John Battaglia. Per il caso di oggi amici siamo nell'anno 2001 in Texas ma più precisamente nella città di Dallas conosciuta come la patria dei cowboy. Qui nel 2001 a Dallas vive la famiglia Battaglia composta dal padre John Mary Jane Pearl una madre amorevole che adora completamente le sue due figlie Faith e Liberty. Nei momenti in cui si svolge questa storia Faith la più grande delle due ha nove anni ed è nata nel 1992 e devo dirvi che odia il colore rosa e giocare anche con le bambole. Se le viene addirittura dato un vestito da indossare beh state certi che non lo avrebbe mai e poi mai messo e come dice anche sua madre Mary Faith è il completo opposto di sua sorella Liberty nata invece nel 1995 che sempre in questo momento nei momenti in cui si svolge la storia di oggi ha solo sei anni. Liberty al contrario di sua sorella ama vestirsi e giocare con le barbie e le bambole in generale e adora anche ballare. Ma nonostante i loro gusti completamente diversi entrambe le sorelle non hanno problemi ad andare d'accordo anzi amici sono praticamente quasi inseparabili sono educate gentili con chiunque ed entrambe frequentano la John Bradford Elementary School ad Idleham Park. Queste loro personalità contrapposte le potete proprio notare anche in queste foto che provengono dall'album scolastico. Mentre Liberty si siede con la mano sul fianco e indossa un vestito floreale Faith è più informale con la sua camicia rossa a maniche corte. Mary è una madre amorevole e devota ed anche una commerciante d'antiquariato di successo e quella che pare essere una famiglia felice vive nel sobborgo di Idleham Park a Dallas. Ma come sapete purtroppo amici se vi sto raccontando la storia sul mio canale sapete che niente è come sembra perché il loro padre un uomo di nome John Battaglia ha una personalità oscura e il suo comportamento è quello a tutti gli effetti di una persona tossica. Anche se inizialmente John e Mary si amano e sono una coppia felice questo non durerà per sempre. Quindi dopo essersi sposati nel 1991 e dopo aver avuto due bellissime figlie divorziano nel 1999. Ma chi è John? Cioè chi è quest'uomo e perché amici Mary ha divorziato da lui? Sfortunatamente rispondere a tutte queste domande vi lascerà piuttosto indignati e soprattutto disgustati. Nato il 2 agosto del 1995 John ha un comportamento terribile. Da come avete intuito ha delle origini italiane visto il suo cognome Battaglia e nasce praticamente in una base militare dell'Alabama. Essendo la loro una famiglia praticamente di militari sono costretti a trasferirsi sempre e infatti John insieme ai suoi genitori Julia e John Battaglia senior si spostano dall'Alabama al Texas, poi a Washington DC, in Oregon e infine nel New Jersey. Fio di un militare John ha un'educazione molto dura. Suo padre infatti John Battaglia senior se i suoi figli non obbediscono li punisce in modo estremamente severo spesso utilizzando addirittura la cintura. La regola infatti in casa è chiara, fare ciò che viene detto e non fare assolutamente domande e se non si ascoltano i genitori beh le conseguenze sono delle punizioni fisiche. Vivere in questo modo sulla base di studi scientifici ma non solo dimostra che questa forma di educazione può infliggere un grande trauma psicologico ai bambini e anche in molte storie di cui abbiamo anche già parlato, spesso gli assassini hanno un passato molto difficile che ovviamente non giustifica in alcun modo le loro azioni. Comunque nonostante l'ambiente difficile John è legatissimo a sua madre che cerca sempre di mantenere la tranquillità nella sua famiglia. Purtroppo però le difficoltà psicologiche di Julia che è la madre di John quando lui ha solo 17 anni la portano ad un ricovero in un istituto psichiatrico nel 1972 mentre combatte contro una grave depressione. Nel frattempo John invece si arruola anche lui nell'esercito come ha fatto suo padre ma non solo prova anche a fare il modello e si laurea in contabilità. Prima però del matrimonio con Mary è già stato sposato con Michelle da cui ha avuto una figlia di nome Christy e anche se questa relazione termina nel 1987 John comunque continua a prendersi cura di sua figlia Christy. Dopo la fine del suo primo matrimonio incontra Mary Jane con cui si sposa il 6 aprile del 1991. All'epoca John pare un uomo perfetto, affascinante, educato ed è estremamente generoso con chiunque conosca. Praticamente è sempre pronto ad aiutare gli altri ma... beh amici da come presto scoprirete tutto questo è solo un'enorme facciata. Nei successivi otto anni del loro matrimonio nascono le due figlie ovvero Mary Faith nel 1992 e sua sorella Liberty nel 1995. Dall'esterno la famiglia pare veramente felice nella loro casa ad Eidland Park ma a porte chiuse emergono i primi problemi nella relazione tra John e Mary. Dopo il matrimonio John subisce una vera e propria trasformazione, diventa irritabile, urla e qualche volta appare addirittura che voglia picchiare sua moglie. E nel corso degli anni il comportamento di John passa dal ridicolizzare Mary fino addirittura a manipolare le sue azioni e a metterla costantemente in imbarazzo davanti a tutti gli altri. Ma nonostante queste enormi difficoltà Mary cerca di tutto, fa qualsiasi cosa pur di mantenere unita la famiglia, specialmente dopo la nascita di Liberty. Tra l'altro amici John non è nemmeno violento tutti i giorni, anzi alterna proprio momenti in cui pare essere profondamente innamorato di sua moglie e altri in cui esplode di rabbia. L'uomo infatti è importante da sottolineare, soffre del disturbo bipolare. Ma ci mancherebbe questo ovviamente non deve essere una scusa o una che ne so, giustificazione alla violenza nei confronti di Mary. Ciò significa che il suo comportamento nei confronti di lei non è mai costante, costringendola praticamente a vivere di continuo dei momenti di estremo disagio. Inoltre John è un uomo dalle mille maschere e nonostante sia verbalmente molto violento nei confronti di Mary, riesce a nasconderlo a chiunque intorno a lui. Infatti nessuno crede o pensa che Mary stia iniziando a vivere un vero e proprio incubo. E non solo amici, perché John non si mostra mai di fronte alle due figlie in questo modo, cioè non si fa mai vedere davanti agli occhi di Fate e Liberty come fa con Mary, che sono poi tra l'altro, secondo tutti e secondo anche Mary stessa il suo orgoglio e la sua più grande gioia. Le persone che lo conoscono, inclusa sua moglie Mary, credono che non farebbe mai del male alle sue figlie perché almeno nei loro confronti non ha mai alzato la voce e non le ha nemmeno mai sfiorate con un dito. Ma anche se lei non si sente al sicuro insieme a suo marito, crede invece che le sue bambine siano addirittura protette quando si trovano con John, proprio perché amici, almeno fino a questo momento, per Fate e Liberty è stato un padre sempre presente ed estremamente amorevole. Siamo quindi di fronte alla classica situazione del lupo travestito da pecora e purtroppo però vi devo avvertire perché questo è solo l'inizio. Nel corso degli anni passati insieme Mary si trova nella situazione in cui deve difendersi da un uomo violento e disturbato come John e poi, come dirà lui stesso, decide di punirla. Arriviamo infatti al Natale del 1999. La famiglia come sempre trascorre questo giorno tutti insieme, tra cui anche la prima figlia di John Christie, quella che ha avuto dal suo precedente matrimonio con Michelle. Ed è proprio in quel momento che le cose prendono una svolta oscura e violenta. È la vigilia di Natale e John attacca Mary per la prima volta davanti alle loro figlie. Le bambine in quel momento supplicano il padre di smettere mentre lui la picchia e la spinge a terra lasciando Mary coperta di tagli, contusioni e lividi. E ovviamente amici questo per lei, cioè questo per Mary è l'esatto momento in cui è il punto di non ritorno. Il giorno dopo infatti lo denuncia la polizia e decide di chiedere anche immediatamente il divorzio. Con tutte ovviamente le figlie testimoni dell'aggressione, John non ha molta scelta se non di dire tutta la verità e ammettere di aver aggredito quella che ormai sarà presto la sua ex moglie. Infatti si dichiara colpevole di aggressione e gli vengono assegnati due anni di libertà vigilata. Questo in pratica significa che John non può più vivere con Mary, il che ovviamente ha senso perché lei dice all'autorità che non si sente più al sicuro quando si trova con lui e ovviamente le figlie rimarranno però a vivere con lei. Nonostante John ha quindi dimostrato di essere pericoloso, è assurdo lo so amici, ma gli ha ancora permesso di vedere e di passare del tempo con Fate e Liberty anche perché in questo momento, siamo all'incirca nel 2001, la legge in Texas lo permette anche se è evidente che John ha avuto un passato fatto di violenza domestica. E non è nemmeno la prima volta ma non vi preoccupate perché ci arriviamo nel corso di questa storia. In effetti per quanto riguarda le sue figlie le vede settimanalmente a casa sua prendendo la scuola e persino senza supervisione da parte delle autorità. Le va a trovare a casa della madre, cioè a casa di Mary, dove effettivamente vivono. Quindi non è così distante da Mary come tecnicamente dovrebbe esserlo anche in base alla condanna che ha ricevuto. Ma purtroppo Mary crede ancora che John non farebbe mai del male alle sue figlie e che le ami più della sua stessa vita. Nonostante non abbia mai fino a questo momento mostrato nessun tipo di violenza nei confronti delle sue bambine, cioè nei confronti di Faith e Liberty, Mary in quel momento non sa che John in realtà è capace di molto peggio, cioè è capace di molto peggio di quanto possa immaginare e non conosce nemmeno la sua terribile storia. Una storia che lui le ha tenuto nascosta per tutto il tempo in cui sono stati insieme. E sebbene Mary sia a conoscenza del suo precedente matrimonio, cioè quello con Michelle, non sa però esattamente perché sia finito e come ci si può aspettare, beh, il motivo è anche abbastanza ovvio. Michelle infatti chiede il divorzio dopo mesi interi passati a subire abusi fisici e le molestie nei suoi confronti sono così tanto gravi che deve presentare più di una denuncia per farlo arrestare diverse volte, perché teme sia per la sua sicurezza che per quella di sua figlia Christy. In un'occasione John aggredisce Michelle proprio fuori dai cancelli della scuola della figlia e in un'altra le rompe addirittura il naso. E visto che la violenza di quest'uomo peggiora sempre di più nel corso dei mesi, Michelle per tentare di salvarsi la vita chiede il divorzio e ovviamente John è furioso dalla notizia. Infatti quando lo viene a sapere l'attacca così violentemente che lei deve essere ricoverata in ospedale e tutto questo accade in una fermata dell'autobus pubblica davanti agli occhi delle persone terrorizzate e spaventate. Le autorità finalmente direi a questo punto decidono di intervenire ma purtroppo è già troppo tardi perché anche se John non nasconde assolutamente il fatto di averla colpita le ha causato dei gravi danni fisici e mentali. Dopo che la donna quindi segnala l'aggressione e l'autorità John si dichiara colpevole di un'accusa minore e inizia la sua prima libertà vigilata di appena due anni. Dunque amici la libertà vigilata e sempre due anni che ha ottenuto quando Mary lo ha denunciato capite bene che non è nemmeno la prima volta perché in precedenza l'ho anche già denunciato la sua ex moglie Michelle. Dopo quest'ulteriore aggressione John abbandona Michelle e Christy lasciando le due a rifarsi una vita mentre però a questo punto cerca una nuova donna da terrorizzare. Così il matrimonio di John e Michelle finisce nel 1987 e poco dopo entra in scena Mary Jane Pearl. Anche se evidente che ha un lungo passato di violenza Mary pensate che ne viene a conoscenza solo dopo aver presentato una denuncia e naturalmente dopo questa scoperta è più determinata che mai nel chiedere il divorzio e nonostante la libertà vigilata impedisca a John di contattare Mary lui ignora tutte queste regole cioè John amici ignora tutte queste istruzioni e continua costantemente a molestarla e aspettate perché John ha pure la faccia tosta e le dice che se lei ritirasse la denuncia beh lui sicuramente smetterebbe di molestarla lui smetterebbe di darle fastidio. Quindi Mary che spera nella fine di questo incubo che ormai va avanti da anni ritira la denuncia ma alla fine purtroppo questa promessa non dura lungo perché nella Pasqua del 2001 lei essendo appunto un mese di festività un giorno di festa regala alle loro figlie una carta regalo da 50 dollari ma più tardi quella sera stessa John le lascia un terribile messaggio sulla segreteria telefonica e le dice esattamente queste parole. Mary Jane la prossima volta che dai le mie figlie 50 dollari perché non dici loro come lei sottratto il fondo per il college maledetto maiale? Come ti senti allora a questo punto maledetto maiale? E in questo momento oltre gli insulti che John fa a Mary se non bastasse oltre a tutta la violenza fisica e verbale lui comincia a criticarla anche davanti ai suoi colleghi sul suo posto di lavoro. Spesso dice loro quanto sia una persona terribile e confesso inoltre che lei gli impedisce di vedere le sue figlie cosa ovviamente non vera perché anche se Mary sta vivendo letteralmente un incubo ha sempre permesso a John di vedere le sue due bambine. Naturalmente poi lui si dipinge come un padre innocente e devoto e sostiene di volere solo una vita normale con la sua famiglia. John amici ha la faccia tosta e dice i suoi colleghi che vuole una vita normale insieme a sua moglie e le sue figlie ma ovviamente la sua facciata di bravo padre non durerà per sempre. Nei due anni successivi il suo risentimento verso Mary cresce costantemente e tutta questa rabbia estrema sta per esplodere in uno dei modi più terrificanti possibili. Siamo dunque a maggio, a maggio del 2001 e John inizia a violare sempre più spesso la libertà vigilata. Infatti causa diversi incidenti da ubriaco, viene fermato mentre fa uso di marioana, viola il coprifuoco che deve rispettare e se non bastasse continua a molestare tutti i giorni la povera Mary. Con così tante violazioni la polizia non è che lo arresta, no, ma semplicemente gli ordina di presentarsi volontariamente in centrale e invece di fare la cosa giusta e quindi di andare dalle autorità, quel giorno John decide di vedere comunque le sue figlie nascondendo tutte queste informazioni a Mary anche perché la legge non l'ha mai messa al corrente. Cioè amici lei non sa che in verità John quel giorno si sarebbe dovuto presentare in centrale e non avrebbe dovuto passare col tempo né con Faith e né con Liberty. Decide quindi di incontrarle in un parcheggio di modo che nessuno possa vederlo e le porta a casa sua per cena mentre Mary le guarda andare via e crede semplicemente che quel giorno avrebbe dovuto passare del tempo con loro come faceva poi sempre. Mary poi tra l'altro vive in un complesso di appartamenti precisamente gli Adam S. Loft a Dallas che non sono nemmeno così lontani rispetto dove abita John. Così quella sera decide di prendersi un po' di tempo per lei per rilassarsi e poi si dirige a casa di un amico per cenare insieme a lui. Mary quindi come sappiamo ha già lasciato molte altre volte le sue figlie con John. Quelle che lui dice che proteggerebbe con la sua stessa vita e obiettivamente quel giorno crede che sarebbe stata la stessa cosa di sempre. Una serata tra padre e figlie ma tragicamente si sbaglia. Dopo appena due ore all'inizio della sua serata Mary riceve una telefonata inaspettata. Una telefonata che l'avrebbe sconvolto per sempre la vita. Rispondendo al telefono sua figlia più piccola è dall'altro lato della linea ma c'è qualcosa di strano perché Liberty la figlia di sei anni pare estremamente sconvolta e tutto quello che in lacrime riesce a dire sua madre è mamma perché vuoi che papà vada in prigione. Mary ovviamente quando sente quelle parole ha un nodo alla gola e capisce immediatamente che le sue figlie non sono al sicuro con il padre. Quello che poi diceva le persone che avrebbe dato la sua vita per la loro. Nel completo panico dice a Liberty di scappare ma quello che accade dopo è terrificante perché Mary sente diversi colpi di pistola mentre è al telefono. Prima due poi cinque e infine solo un breve silenzio. Questo fino a quando John non riprende il telefono dicendole buon natale schifoso maiale. Non ho parole ma quella telefonata deve essere stato il momento più doloroso il momento in cui la vita di Mary si è completamente fermata. Lei sa per tutto quello che ha subito che John è una persona orribile ma non avrebbe mai e poi mai immaginato che sarebbe stato in grado di uccidere le sue figlie cioè il sangue del suo stesso sangue. Dopo avrà ascoltato quella chiamata che non dimenticherà mai in un fiume di lacrime chiama il 911 e sa che deve agire immediatamente nella speranza ci sia qualche remota qualche piccola possibilità che le sue figlie sopravvivano perché avranno bisogno di cure mediche il prima possibile. Ma a complicare ulteriormente la situazione gli agenti sanno che John può trovarsi ancora lì a casa sua e può essere armato ed pericoloso quindi devono essere veramente molto molto cauti. Dopo aver fatto eruzione nella proprietà con il personale medico che cerca di rianimare in ogni modo possibile le due bambine Faith e Liberty vengono purtroppo dichiarate morte sul posto e gli investigatori in quella casa trovano ben 16 armi da fuoco. Una volta che la polizia ha fatto eruzione nell'appartamento John Amici non è in casa cioè non si trova nemmeno nei dintorni e pare che sia fuggito dopo gli omicidi delle sue due figlie lasciando prima però un messaggio vocale agghiacciante sulla segreteria telefonica di casa sua e amici fatemi leggere questo messaggio che dice buonanotte miei piccoli spero che voi stiate riposando in un posto diverso vi amo vi amo tanto vorrei che voi non aveste nulla a che fare con vostra madre era malvagia viscida stupida e ora sono sicuro che sarete liberi da lei vi amo molto addio ora questo messaggio vocale ha solo spezzato ulteriormente il cuore di Mary perché John ha ucciso le loro figlie per vendicarsi di averlo denunciato alla polizia ed essendo una persona estremamente pericolosa gli agenti e i volontari sperano di arrestarlo entro un'ora e fortunatamente per rintracciare John ci mettono veramente poco tempo perché viene trovato in un negozio di tatuaggi di Dallas mentre si sta facendo tatuare un fiore sul suo braccio sinistro e questo fiore simboleggia le due figlie che è appena brutalmente ucciso cioè fermi un attimo ma che tipo di persona malata fa una cosa del genere cioè è appena ucciso le tue figlie per vendicarti nei confronti di tua moglie e poi le lasci senza vita sul pavimento e la prima cosa a cui tu pensi è quella di andare in un negozio per farti tatuare un fiore ricordo delle tue figlie cioè io non ho veramente parole ma andiamo avanti John viene arrestato fuori dal negozio di tatuaggi ma solo dopo aver fatto appunico gli agenti sul posto la comunità ovviamente è devastata dalla terribile notizia e non riescono a comprendere le azioni deplorevoli di quest'uomo che diceva di essere addirittura un padre devoto questo è un momento in cui tutti si uniscono intorno a Mary e alla sua famiglia che è stata lasciata con uno dei dolori più atroci che una madre possa mai affrontare nella sua vita il funerale di fate liberty si è tenuto solo pochi giorni dopo la loro morte e sono state sepolte accanto al nonno nel cimitero di hillcrest nel frattempo invece john resta in carcere in attesa del suo processo e questo processo inizia nell'aprile del 2002 e lo vede accusato dei crimini più gravi possibili che si possano commettere in America ovvero due capi di accusa di omicidio capitale e ciò significa amici che john potrebbe essere condannato alla pena di morte e pensate che la giuria per deliberare ci mette solo appena 19 minuti è ritenuto infatti colpevole dei due capi d'accusa di omicidio capitale quindi o potrebbe restare in carcere senza la possibilità di richiedere la condizionale o nel caso del texas potrebbe ricevere la pena di morte la sua difesa durante il processo sostiene che a causa del disturbo bipolare di cui soffre non sarebbe in grado di comprendere totalmente le sue azioni e quindi secondo loro non dovrebbe essere condannato a morte ma questa richiesta viene completamente respinta appena otto giorni dopo viene infatti scelta la pena e john viene condannato a morte per iniezione letale dopo la lettura della sentenza definitiva mary jane la madre delle sue due figlie faith e liberty dice queste parole sei uno dei più efferati assassini dei tempi moderni vorrei dirti che la prossima volta che mi vedrai sarà quando ti inietteranno quel veleno nel braccio anzi sai cosa ti dico non perderò nemmeno tempo e quel giorno io non sarò lì a vederti morire anche michelle la prima ed ex moglie di john e la sua unica figlia sopravvissuta christy sono convinte che sia una persona che non potrà mai e poi mai essere riabilitata la stessa christy infatti dice al padre che non lo avrebbe mai perdonato o tantomeno avrebbe giustificato le sue azioni e per questo deve essere fatta giustizia per le povere fate e liberty john dopo la sentenza viene rinchiuso presso la palace key unit vicino a livingstone nel texas ritenuta una delle prigioni più dure in attesa della propria condanna a morte essere infatti detenuti in questa prigione prevede 22 ore di isolamento al giorno e anche l'ora di ricreazione viene trascorsa da soli nella propria cella nel corso dei successivi 16 anni passati poi nel braccio della morte john concede diverse interviste in cui parla dei motivi che tecnicamente lo avrebbero spinto a uccidere le sue due figlie parlando dei suoi crimini addirittura ci scherza su senza mostrare nessun rimorso ora nel braccio della morte senza via di fuga sa che presto sarà un uomo morto e proprio per questo non sente di avere nulla da perdere e quindi commenta tutti i crimini che ha commesso nella sua vita incluso l'attacco nei confronti della sua prima moglie michelle Michele, I wouldn't really call it attack, went up to her but she's walking down the sidewalk and I said you're uh you're gonna have to learn this lesson and I just held her by the shoulder and I popped her in the head twice and you know she moved her head the wrong way and I snapped her nose the first blow that he hit me was in my eye and it was like I felt my eye hit the back of my head and come forward but then he hit my nose which broke my nose the bone punched through right here and she fell down and I just walked away she said I struck her about 20 times but she was unconscious before she hit the ground and then my jaw which dislocated my jaw and then I had like a big bruise here and as I fell he just kept hitting and once I hit the ground then he just started kicking well the fact that she got me put in prison she knows that that uh the bullshit she pulled the only way to keep from sending her front teeth flying on her asshole is to have me behind this glass because she's a bitch and she deserved that the shit knocked out of her but you know what the hell John partecipa quindi a diverse interviste in cui sostiene che per le sue tre figlie è sempre stato un padre perfetto definendosi addirittura divertente e amorevole ma considerando quanto sia stato abusante e cattivo nei confronti delle sue ex mogli di certo amici nessuno di noi è d'accordo con quanto dice think I was a good father to liberty and faith yes I I mean you know I tried to be oh gosh oh my fondest memory of my daughters uh well I have another daughter she's 30 now Christy when uh when we used to all get together and go somewhere it was a kind of a little bit of a three ring circus if you can imagine three highly energetic fun little girls just having a great time file for divorce I knew she was going to betray me and that betrayal would probably lead to all of our deaths so I wanted to get their names John non mostra nessun rimorso durante tutte queste interviste e invece di scusarsi facendo diciamo la cosa giusta chiacchiera come se fosse seduto al bar con degli amici è evidente la sua indifferenza nei confronti degli altri perché agisce come se esistesse solo lui e addirittura dice che le sue ex mogli hanno sbagliato e se le sue ex mogli hanno sbagliato beh è giusto che lui le abbia dato addirittura delle lezioni sapendo infatti di essere nel braccio della morte senza potere via d'uscita John fa anche sembrare questa scelta cioè quella prima o poi di morire come se non gli pesi affatto direi che sono pronti di essere eseguiti direi che non voglio essere perché soprattutto ora che sto parlando con mia figlia io mi piace questo ma ma per quanto riguarda mentalmente preparata sì non sarà un problema è meglio di essere qui sottotitoli sono 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 città città è non è è di città 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 La data quindi di esecuzione di John Battaglia è inizialmente programmata per il 30 marzo 2016, ma viene rimandata più volte dopo che sostiene, visto il suo stato mentale, di non essere idoneo alla pena capitale. Questi appelli però vengono respinti più volte con gli psicologi che sostengono che John sta mentendo proprio per non essere condannato a morte. Dopo diversi tentativi di evitare la pena di morte, la data di esecuzione di John è fissata per il primo febbraio del 2018, ben 15 anni dopo gli omicidi delle sue due bambine, Faith e Liberty. E anche se John, amici nelle interviste che ha fatto diversi anni prima, dice di essere pronto a morire in verità pochi minuti prima della condanna prova a fare appello, ma anche questo viene respinto. Dunque il primo febbraio del 2018, alle 21 e 14, John Battaglia viene giustiziato per iniezione letale e Mary, al contrario di quanto avesse detto in precedenza, è presente alla sua esecuzione. Nei giorni precedenti alla sua condanna, John sostiene che è ingiusta accusando le sue ex mogli, gli avvocati difensori, i pubblici ministeri e la giuria dicendo che tutti stanno cospirando contro di lui. Ma sia Michelle, Mary e la figlia Christie ritengono che quella sia l'unica pena giusta per un uomo orrendo, proprio come lui, proprio come John. Durante la sua esecuzione la stanza è divisa in due, cioè una metà che può essere occupata dalla famiglia di Faith e Liberty e l'altra dalla famiglia e dagli amici di John, ma nessuno occupa l'altra metà, nessuno legato a John, a parte Mary che non vede l'ora che questa tortura finisca, è presente per lui. Dopo aver visto Mary tra le persone, John le dice addirittura beh ciao Mary, ci vediamo presto, addio. E 22 minuti dopo queste sue ultime parole, John Battaglia muore per iniezione letale. Tutti concordano che questa sia la pena giusta, proprio per aver ucciso senza nemmeno un minimo di rimorso le sue due figlie. E come direi diretta conseguenza dal caso, lo stato del Texas cambia le sue leggi sui diritti di visita dei figli dopo il divorzio, tenendo conto di qualsiasi tipo di violenza domestica. E direi anche finalmente. Faith e Liberty ora riposano accanto al loro nonno e anche se sono passati vent'anni, nessuno le ha mai dimenticate. E devo dirvi la verità che questo è un caso che ho sentito particolarmente e mi piange molto il cuore perché in questo momento Liberty avrebbe avuto la mia stessa età, avrebbe avuto quasi 30 anni. Il loro futuro è stato rubato da un uomo che avrebbe dovuto amarle, da un uomo che avrebbe dovuto sostenerle e proteggerle. E così invece non è stato. John Battaglia infatti ha commesso amici secondo me qualcosa di meschino. Cioè per punire sua moglie Mary dopo che lo ha denunciato alla polizia decide di portarle via tutto quello che aveva di più prezioso nella sua vita. Decide di portarle via le sue due figlie. Ad ogni modo però amici, prima di concludere il caso mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi di questa storia. Cioè pensate che John dovesse ricevere la pena di morte o rimanere dietro le sbarre per il resto della sua vita? Tra l'altro, come vi ho anche già detto, Mary non sapeva nulla del passato di John anche dopo il loro matrimonio. Ha saputo dopo tutto il suo passato violento una volta averlo denunciato all'autorità. E quindi pensate secondo voi che almeno la legge avrebbe dovuto metterla al corrente facendo sì che giustamente non gli permettesse di vedere le sue figlie di modo conseguentemente da poterle tutelare? Sono proprio curiosa e voglio proprio capire voi cosa ne pensate. Quindi fatemelo sapere qui sotto con un commento. Grazie di aver visto questo video e mi raccomando non siate timidi, lasciatemi pure qui sotto un commento per farmi sapere la vostra. A presto amici e state al sicuro perché è proprio un mondo strano là fuori. Grazie. Grazie. Grazie.